Solo ieri abbiamo dato la notizia della scoperta di illeciti su bonus edilizzi per 75 milioni di euro da parte delle fiamme gialle di Vibo Valencia. Oggi dobbiamo tornare sull'argomento perché i colleghi di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di due persone e il sequestro preventivo di tre società, denaro, beni e crediti fiscali per oltre 1.600.000 euro, sempre per illeciti inerenti i bonus facciate. Partendo anche in questo caso da controlli sulla realizzazione dei lavori che hanno usufruito del bonus 110%, i finanziari della compagnia di Palmi hanno scoperto che i due imprenditori destinatari del provvedimento degli arresti domiciliari, rappresentanti legali di due società, avrebbero fittiziamente prodotto crediti di imposta relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in realtà mai eseguiti, per poi cederli ad istituti di credito e ad altre società. In particolare, nel caso della cessione a tre di queste, è emerso il mancato pagamento di un controvalore, con la conseguente segnalazione dei rispettivi rappresentanti legali per il reato di riciclaggio, il sequestro delle stesse società e il loro affidamento ad un amministratore giudiziario.